Cari italiani e care italiane, ma anche care straniere, qui è il vostro Enzo Ratti dall'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise Bancomat Guasto che vi parla. Quest'anno è stato un anno lavorativamente difficile, abbiamo dovuto stringere la cinghia, io che ero abituato a slacciarla la cinghia. È stato un anno duro, un anno che ha piegato la nostra anima, ma quando è dura ed è piegata è lì che l'italiano dà il meglio di sé. Purtroppo sono qui per comunicarvi che abbiamo dovuto annullare alcuni spettacoli previsti per Capodanno, come al Palacondi Riso di San Columbro, nelle Marche. Abbiamo dovuto cancellare il concerto di Lady Gaga, la nonna, Tena Lady Gaga. Salta il veglione di Capodanno al ristorante Bella Zurigo di Napoli con Piero Angela. Sì, è un duo, Piero e Angela fanno piano bar, Piero fa bar e Angela fa piano, altrimenti ci sentono. Abbiamo dovuto cancellare anche un altro spettacolo alla Trattoria ai Due Prestanome di Terme Sifone con il grandissimo cantante, il fiore all'orchide della mia agenzia, Robi Cristallo, che avrete sicuramente sentito con la sua hit natalizia quest'anno i regali solo ai bambini. E purtroppo salta anche nel comune di Mezzogaudio il concorso che avremmo tenuto all'aperto in piazza, Miss Maglietta Bagnata. Questo è saltato anche per carenza di iscritti, chissà come mai, chissà come mai. Comunque ci tengo a dire che non ridaremo i soldi della caparra che ci hanno dato, perché i soldi sono un possibile veicolo di questo bruttissimo virus. E purtroppo io ho il Bancomat Guasto, ci tengo a dirlo. Ma io sono ottimista, io vedo il bicchiere mezzo pieno, di plastica ma mezzo pieno. L'agenzia Enzo Ratti Enterprise Bancomat Guasto tornerà più bella e più forte che Pria. Abbiamo 386 nomi in agenzia, 86 sono solo quelli del duo di messicani. Abelardo, Cristobal, Hernández, García, Martínez, González, Rodríguez, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto 356 mila chilometri, turbodiesel, ottimo stato, telefonare ore pasti, scusate questo è un messaggio mio personale se ci sono delle persone interessate, insomma. 367 talenti scovati in un anno. E come scovo io si sa, chiamiamolo dono, chiamiamolo regalo, sempre pacco è. A proposito, se siete interessati al pacco, scrivete nei commenti. Io riesco a fare 10 casting al giorno, quando sono in buona anche 12. 1287 spettacoli fatti di cui 5 fatturati. 46 nuovi spettacoli con i quali gireremo 80 teatri e qualcuno ci aprirà, dico io. Insomma, ce la faremo ancora. Abbiamo i numeri. 5? No, non è ancora uscito. Scusate, adesso dobbiamo continuare con la topola di Enzo Ratti. Forza, andiamo avanti con il 17. La denuncia, e bisogna stare attenti. Il 50, 50 è ancora buona. 61? Mentalista, i numeri li devo dire io, va bene? E dai, è comunque sbagliato perché è 47, morto che parla, canta e balla. Ce l'ho io in agenzia, se vi interessa chiamatevi. Andiamo avanti con il 22, l'IVA. Ragazzi, vabbè che siete equilibristi, ma potete giocare a terra come tutti quanti voi, no? Andiamo avanti velocemente con il 7 e 30. 7 e 30, chi c'ha 7 e 30 qui? Nessuno, come me, bravi. 60, 60, gli interessi. No, come 80, abbiamo detto 60. Dai, su, comunque te li do l'anno prossimo. E si continua con il 90. Il provino superato. A proposito di provino, tu sei qui per il provino, eh, cara? Adesso andiamo nella sala casting, dove io castingo tutte quante un po'. Dov'è il mago? Mago, continui tu ad estrarre i numeri, eh? Mi raccomando, i numeri. Non come l'ultima volta che abbiamo dovuto mangiare coniglio fino a Pasqua. Io vi saluto. Buon 2021. Mi raccomando che chi scova a capo d'anno, scova tutto l'anno. Cara, andiamo. Grazie a tutti.